Oh, mamma, non mi calma, non mi calma, non mi calma, mamma, io volevo andare a scuola, volevo, povero mamma, se morirò io, morirai anche tu, bambino. Che dicevi di quel tuo poverica? mio babbo? Sono vivi i tuoi genitori? Mio babbo sì, la mia mamma non lo so, non l'ho mai conosciuta. Che mestiere fa il tuo babbo? Quanto guadagna? A me mi viene da piangere, fa niente mio babbo poverino, illustrissimo, mangia pochissimo, mio babbo poverino, poverissimissimo, ieri si stava mangiando una parrucca perché sembra una poletta. Che famiglia disgraziata, ma fratelli ne hai? No, sì, uno. E come sta? Bene, bene, magari sta male, molto male, è malato, molto malato, è morto, è morto, mi viene in mente ora, è morto. è rimorto, è morto due volte, c'è un fratello che muore continuamente, povero babbo, ha fatto un funerale, ma è così povero il mio babbo, che non c'era niente, non c'era nessuno, non c'era fiori, non c'era neanche il morto. La famiglia di ricchi accanto a noi ha fatto un funerale con sette e otto morti, perché sono ricchi e il mio babbo neanche uno. Minocchio, sei un gran bravo ragazzo, vieni qua e dammi un bacio. Pinocchio, quel tuo povero babbo mi fa tanta compassione. Qua ci sono cinque zecchini d'oro, portali al tuo babbo e salutano tanto da parte mia. Oh, cinque zecchini, grazie, illustrissimo, ma allora non mi mangiate più? No, per oggi non mangio. Silenzio, o faccio un buon rito misto. Buongiorno Pinocchio. Macchio. Buongiorno, ma come sapete il mio nome? Abbiamo visto il tuo babbo sull'usso di casa, era in canottiera e tremava come una foglia dell'alfreddo. Povero vecchio, povero vecchio. Oh, povero babbo, allora vado subito da lui. Comunque da oggi in poi non tremerà più. Perché? Perché, perché io sono diventato un gran signore. Un gran signore. Certo da ridere, capite, perché se ve lo intendete, questi qui sono cinque bellissimi zecchini d'oro. Cinque zecchini d'oro. Cinque zecchini d'oro. Cinque zecchini d'oro. Io la coppo subito, ci prendiamo il palo. Signor Pinocchio, scusate, non ci siamo neanche presentati. Io sono la volpe e questo è il gatto. Siacere, sì. Noi siamo molto conosciuti qua per essere due persone per bene. Si vede, sì. E tu che sei un così bravo burattino, cosa vuoi farne di quelle cinque monete d'oro? Li vuoi tenere tutti per te. Per te? No. Prima di tutto voglio comprare una giacca nuova, nuova al mio papo, eh. E secondo di tutto un abbecedario per me. Per me? Per me? Sì, perché voglio andare a scuola e studiare. E guadagnarmi da vivere onestamente, studiando e lavorando. Arrivederci. Studiando e lavorando! Studiando e lavorando! Pinocchio sei proprio un burattino! E pensare che le tue cinque monete d'oro potrebbero diventare mille, duemila, diecimila! Diecimila? E come? Te lo diciamo subito! Invece di andare a casa, devi venire con noi! Con noi? Con voi e doni? Nel paese dove si moltiplicano le monete d'oro. No! 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 E come si chiama questo posto? Il paese dei barbagianni! Vieni! Gianni, vieni! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ma Dio signor Ma Dio signor Ma Dio signor E a casa fa La epoca era Ma Dio signor 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.